Abbiamo ricevuto proprio nella giornata di ieri una importante grande notizia per il nostro comune che ha ricevuto un ulteriore finanziamento di 700 mila euro. Proprio ieri infatti il Presidente della Regione Marco Marsido ci ha comunicato che a seguito di relazioni, rapporti che in questo momento sono diventati molto fitti per via del PNRR, il nostro comune sarà destinatario di questo finanziamento che destineremo alla viabilità della nostra città. In particolare c'è stata grande attenzione a via Montegrappa e alla viabilità di accesso al bocciodramo, quindi nella strada, nella parte diciamo che appena dietro via Grascieta, che è in condizioni in effetti necessitanti una messa in sicurezza anche abbastanza urgente. È una buona notizia che testimonia sicuramente il grande lavoro che l'amministrazione comunale sta compiendo unitamente agli uffici tecnici del comune per tentare di non perdere nemmeno un'occasione che deriva dalla disponibilità economica del Recovery Fund. Siamo assolutamente consapevoli dell'importanza di progettare e programmare il futuro proprio in questo momento delicato, perché da qui partiranno poi nuove e importanti occasioni per la nostra città. Siamo quotidianamente al lavoro per studiare bandi, possibilità approfondire quelli che potrebbero essere le aree di intervento del PNRR e il fatto che nel giro di pochissimi mesi siamo stati destinatari di diversi milioni di euro di finanziamento testimonia questo lavoro, di cui ci sentiamo profondamente responsabili in quanto consapevoli dell'importanza di questa progettazione e programmazione per il futuro della nostra città. Sicuramente ci riaggiorneremo da qui al prossimo futuro per comunicare alla nostra città ulteriori finanziamenti su cui abbiamo lavorato già nei mesi scorsi.